Il prossimo 19 settembre a Crotone esiterà un convegno organizzato dall'Anmil sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e il caporalato. Noi dell'Anmil abbiamo inteso promuovere questo convegno per un pochettino riproporre i temi della sicurezza sui luoghi di lavoro e quindi sul nostro territorio in particolare. Io sono tra le persone che ogni giorno nel nostro paese subiscono gli stravolgenti effetti di un infortunio sul lavoro. Voglio precisare che noi dell'Anmil, l'Associazione Nazionale Mutilate e Invalidi sul Lavoro, ci adoperiamo da 80 anni per tutelare le vittime sul lavoro. E quindi le vittime del lavoro e promuovere anche la cultura della sicurezza. Rappresentiamo tutte quelle lavoratrici e i lavoratori che sono considerati dei numeri. Mentre noi dell'Anmil siamo consapevoli che intorno ad essi ci sono compagne, madri, padri, figli che gli vengono straffati gli affetti e che gli viene anche, appunto per gli infortuni subiti, sconvolta la vita. Oggi ancora sono tanti gli infortuni e le morti sui luoghi di lavoro, le cosiddette morti bianche, perché la sicurezza manca ma c'è anche tanto sommerso. Sì, questo è un dato in effetti che è sotto gli occhi di tutti. In Italia diciamo che la salute e sicurezza sul posto di lavoro rimane una problematica seria. Registra ancora numeri allarmanti per cui non è possibile voltarsi dall'altra parte. È evidente che ci troviamo di fronte all'aggravamento di quella che era già un'emergenza e non possiamo rimandare l'adozione di interventi concrete e incisivi. È un appello che la nostra associazione ha già rivolto ai principali leader politici in questo momento di grande fermento. Nell'auspizio che è il Parlamento e il governo futuri trattano il tema come un'assoluta priorità per il Paese.